Musica Edizione della sera del Tg Versilia, ben ritrovati con la nostra informazione. La Corte di Cassazione ha confermato il licenziamento di Riccardo Antonini, il ferroviere viareggino licenziato all'indomani della sua lotta a favore dei familiari delle vittime della strage di Viareggio. Era in quota a FS, le sue parole sono di forte amarezza, una sentenza detto ai nostri microfoni vergognosa. Sentiamo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Riccardo Antonini, confermando il licenziamento dell'ex ferroviere viareggino, silurato da Ferrovie dello Stato, con l'accusa di aver sostenuto i familiari delle vittime della strage del 29 giugno durante le indagini preliminari e la fase dell'incidente probatorio. L'udienza finale era stata il 18 gennaio scorso, con un presidio di sostenitori fuori dal palazzaccio a Roma. Il ricorso, presentato oltre due anni fa, è stato rigettato, inammissibile, confermando la decisione del giudice del lavoro di Lucca del giugno 2013. Il risultato era prevedibile, questo è chiaro, però il problema è che oggi non è evitabile, perché è un risultato incredibile, scandaloso e qualcuno l'ha già definito vergognoso. Il fatto che sia stata emessa quel giorno vuol dire che era già decisa. Può darsi che non volessero aspettare la sentenza della strage ferroviaria di viareggio, che è avvenuta il 31 gennaio e ha condannato Moretti. Nel disastro del 29 giugno morirono 32 persone. Antonini, divenuto uno dei simboli della lotta dei familiari delle vittime AFS e al suo AD Mauro Moretti, secondo i giudici della Cassazione, aveva più volte sostenuto la responsabilità della società di cui era dipendente e dei suoi vertici, chiedendone la punizione. La sentenza, come quella di primo grado, è seppa di inesattezze, di cose non vere, potrei definirle false. Finisce qua la sua battaglia legale? Io credo che c'è una battaglia politica, c'è una battaglia civile, una battaglia sociale e non finisce qua. Io continuerò anche a rivendicare il diritto di un lavoratore, in questo caso un ferroviere, di esprimere il proprio diritto di critica e di cronaca su fatti gravissimi come la tragedia del 29 giugno. Riccardo Antonini incassa l'appoggio del sindacato Altra Cosa, opposizione CGL. Riteniamo vergognosa questa decisione, ci stringiamo di nuovo in un abbraccio a Riccardo e tutti i familiari delle vittime, così scrive in una nota il gruppo opposizione CGL. È una sentenza sbagliata perché rischia di tappare la bocca a tutti quei lavoratori che in situazioni simili sarebbero disposti a mettere le proprie conoscenze al servizio della verità e della giustizia. Questo è il commento. Voltiamo pagina adesso la politica. Il Movimento 5 Stelle non presenterà un candidato sindaco alle prossime elezioni a Forte dei Marmi mentre a Camaiore ancora deve essere deciso se sarà Francesco Ceragioli e se verrà dato il simbolo del partito di Beppe Grillo. Il servizio. Il Movimento 5 Stelle non si presenterà alle prossime elezioni amministrative a Forte dei Marmi. La decisione sembrava nell'aria. A due mesi soltanto dal voto, l'11 giugno, ancora non era stato individuato un nome. Scartato quello di Enrico Ghiselli a causa del suo passato politico e partitico, incompatibile da regolamento grillino. Il noto architetto Forte Marmino, pronto da tempo a candidarsi al sindaco con i pentastellati, come noto è stato consigliere comunale negli anni Ottanta nelle file del PSI. Una rinuncia non indolore, quella dei 5 Stelle, che nel 2012 proprio a Forte dei Marmi erano riusciti a portare il leader Beppe Grillo alla vigilia del primo esploat elettorale. Nel 2013, alle politiche, ricordano i grillini della Versilia storica, siamo risultati la prima forza politica con oltre mille voti a Forte dei Marmi. Ma al tempo stesso, mentre entravamo nei consigli comunali di Pietrasante e Seravezza con un consigliere, in questi anni non è cresciuta la partecipazione costante dei Forte Marmini nel movimento locale. Sicuramente, ammettono i grillini, qualche errore sarà stato fatto dal gruppo locale, ma in troppi hanno continuato a delegare senza volerci mettere la faccia. Dunque restano quattro al momento i candidati sindaco a Forte. Intanto sembra in bilico anche la candidatura 5 Stelle a Camaiore di Francesco Ceragioli. Il candidato è pronto, ma il movimento resta in attesa di dare il via libera ufficiale e il tempo intanto stringe. A Forte dei Marmi intanto ancora lotta all'abusivismo commerciale. Denunciato a piede libero un cittadino extracomunitario da parte della Polizia Municipale, sequestrato un ingente quantitativo di merce contraffatta. Operazione scattata mercoledì pomeriggio dopo il mercato. Le agenti in servizio in centro avevano avvistato l'uomo intento a contrattare con due signore per la vendita di una delle borse. È stata poi seguita la vicenda da un inseguimento e siamo arrivati alla denuncia per l'uomo. Ma torniamo alla politica. A Camaiore, l'altro comune, al voto si scalda il dibattito. Il candidato sindaco della centrodestra, Giampaolo Bertola, insiste sulla lotta all'immigrazione, ma anche sulla sicurezza. Ne ha parlato questa mattina ospite a Buongiorno con noi. Sentiamo. Partirà venerdì mattina la raccolta di firme sul fronte sicurezza da parte del candidato sindaco di Camaiore per il centrodestra, Giampaolo Bertola. È stato lo stesso Bertola, ospite a Buongiorno con noi, ad annunciarlo. La sottoscrizione, promossa insieme a Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, va in due direzioni. Abolire l'eccesso di legittima difesa per chi si difende dalle intrusioni nella propria abitazione e frenare l'accoglienza dei migranti sul territorio camaiorese. La seconda petizione invece è rivolta all'amministrazione comunale per quanto riguarda il blocco immediato dell'accoglienza degli immigrati sul territorio di Camaiore, quindi blocco immediato dell'accoglienza per il disposto a cui facevo riferimento prima, che prima bisogna pensare a dare risposte concrete che sono mancate completamente ai nostri concittadini. Tra i temi più caldi di questa lunga campagna elettorale ci sono in botte risposta a distanza tra lui che ha amministrato per dieci anni il comune e l'attuale sindaco sul fronte della situazione finanziaria. Del Dotto afferma di aver ereditato un bilancio in grave perdita, ma Bertola non ci sta. Comune Camionete, tengo a precisare, è un comune giudicato virtuoso, tant'è che lo scorso anno ha dovuto prelevare dal bilancio del comune, dal proprio bilancio, circa 800 mila euro da devolvere in base alla legge Renzi, il famoso finanziamento, il patto di solidarietà, benissimo. Altri comuni sono andati in direzione Napoli, Torino, Roma. Bene, se il comune Camionete aveva ereditato debiti, il comune Camionete è in stato di insolvenza, evidentemente non sarebbe stato giudicato comune virtuoso e non avrebbe dovuto assolvere a questo impegno quindi di prendere dal proprio bilancio soldi e mandare fuori. A Massarosa, dove l'amministrazione rassicura sul bilancio di quest'anno, il previsionale approvato di recente dal Consiglio Comunale, spiega l'assessore Stefano Natali, rispondendo alle critiche dell'opposizione del consigliere Alberto Coluccini, è un documento che ha avuto prima della sua presentazione il parere favorevole sia del dirigente che dei sindaci revisori. Organismo indipendente e autonomo, sottolinea l'assessore. E sempre a Massarosa, voltando pagina, sono arrivate 40 nuove compostiere per la raccolta del materiale organico. Lo annuncia l'assessore all'ambiente, Agnese Marchetti, saranno distribuite ai cittadini in lista d'attesa che ne avevano fatto richiesta. Le altre saranno gratuitamente a disposizione per coloro che vorranno aderire al patto per l'ambiente. E parlando di decoro e di ambiente, a Querceta, Seravezza è in corso l'operazione di restyling per la stazione ferroviaria. Vedete in queste foto, avviato in queste ore, l'intervento di riordino degli spazi esterni dello scalo ferroviario sulla statale Aurelia, la zona da sempre oggetto di degrado, molti residenti chiedono da tempo interventi di recupero, sono previsti il rifacimento della segnaletica orizzontale, lo spostamento e la sistemazione della rastrelliera per le bici, un'apposita corsia riservata ai taxi e uno spazio pedonale protetto di fronte all'ingresso della biglietteria e altre operazioni che saranno chiuse nel giro di un paio di giorni. E si è chiusa invece a Lucca la conferenza regionale sull'agricoltura seguita in questi tre giorni in diretta da Rete Versilia News e Noi TV. Oggi a parlare è stato il governatore della Toscana, Enrico Rossi. Sentiamo il servizio. È stato il commissario europeo per l'agricoltura, Phil Hogan, l'ospite d'onore della seconda giornata della conferenza regionale dell'agricoltura che quest'anno si è svolta all'ex Real Collegio a Lucca. Ogan è stato accolto dall'assessore regionale Marco Remaschi e dal sindaco di Lucca Tambellini e prima di incontrare la stampa è andato sulle mura per ammirare uno spettacolo inusuale sugli spalti. Una squadra di butteri alla guida di una piccola mandria di mucche maremmane. Un fuori programma promosso dall'assessore Remaschi per mostrare al commissario europeo un aspetto concreto e autentico della tradizione rurale toscana. Nel corso della conferenza stampa Ogan ha affermato di non essere molto preoccupato dalla politica protezionistica del presidente degli Stati Uniti Donald Trump perché ha detto gli americani continuano a richiedere i prodotti europei di qualità come quelli dell'agricoltura italiana e toscana. Inoltre si è impegnato per un'ulteriore semplificazione nelle pratiche per la concessione dei sussidi. Poi al Real Collegio l'assessore Remaschi ha chiesto ad Ogan di confermare le risorse per l'agricoltura in particolare nella PAC 2020 perché l'agricoltore non è solo un produttore ma anche l'ultimo presidio delle risorse naturali del territorio. Gli ha fatto eco il presidente della regione Enrico Rossi che si è augurato un aumento delle risorse europee in favore dell'agricoltura perché, ha detto il governatore, la qualità dei prodotti agricoli toscani è la leva da usare per abbattere i muri del protezionismo che ci vengono posti di fronte. Torniamo in Versilia si avvicina la festività di Pasqua via Crucis a Via Reggio questo venerdì con una location in consueta quella della Cittadella del Carnevale appuntamento quindi venerdì sera e c'è attesa per questo evento sicuramente fuori dal consueto sarà presieduta dall'Arcivescovo di Lucca Monsignor Italo Castellani sentiamo il nostro servizio La Cittadella del Carnevale di Via Reggio ospita venerdì 7 aprile alle 21 la processione solenne della Via Crucis presieduta da Monsignor Italo Castellani Arcivescovo di Lucca il luogo per eccellenza dell'arte della creatività via reggina diventa cornice per la cerimonia su iniziativa dell'Arcidiocesi che ha colto l'esortazione di Papa Francesco contenute nella sua enciclica dove il Santo Padre fa appello alla comunità cristiana affinché la preghiera e le cerimonie liturgiche si svolgano anche fuori dai luoghi canonici nei luoghi della vita, del lavoro e della quotidianità La Cittadella del Carnevale è per la comunità di Via Reggio il simbolo della creazione, del lavoro, della dedizione e dell'arte le opere allegoriche dei mestri saranno illuminate per la cerimonia di domani sera inoltre offrono sempre numerosi spunti di riflessione su tematiche di attualità come il lavoro, il disgelo, l'inquinamento ambientale, l'emigrazione i fedeli si ritroveranno all'ingresso della Cittadella nei pressi delle botteghe della Cartapesta parteciperà anche la Corale Puccini diretta dal maestro Trasatti Io penso che per la Cittadella e naturalmente per la città stessa sia una cosa veramente utile Sicuramente è un passo avanti per questo ambiente che è sempre stato disegnato come solamente un ambiente strano solo di effimero, niente di sodo e di importante invece gli viene dato un valore culturale, artistico e quindi siamo stati riconosciuti come un luogo, un luogo di lavoro La religione si avvicina al Carnevale che è una manifestazione profana spero che ci sia una grande affluenza Il Comune di Viareggio ha organizzato un servizio bus navetta per la Cittadella con partenza alle 20 da Piazza d'Azerio il ritorno dalla Cittadella per Piazza d'Azerio è alle 22.30 La Capitaneria di Porto di Viareggio ha disposto il fermo pesca delle Arselle per tutto il mese di aprile ai fini del ripopolamento della specie Lo stop specifica la Guardia Costiera riguarda però esclusivamente l'attrezzo con cui i pescatori professionali spescano i molluschi dunque la pesca sportiva può essere regolarmente svolta anche nel mese di aprile sempre rispettando ovviamente le prescrizioni consuete di legge ovvero un massimo di 5 kg giornalieri di prodotto ittico per ogni pescatore e di vieto assoluto di commercializzazione La sana alimentazione per prevenire i tumori un messaggio che viene diffuso a partire da questi giorni anche attraverso Rete Versilia News con lo spot dei ragazzi del comprensivo di Pietrasanta iniziativa della Lilt che adesso si estende anche a Camaiore In età scolare si impostano e consolidano le abitudini alimentari del bambino ed è in questa fase della vita che la famiglia e la scuola devono contribuire allo sviluppo di uno stile alimentare salutare che permanga nell'età adulta quindi una sana e consapevole alimentazione è alla base della lotta al cancro il messaggio è lanciato dalla sezione provinciale Lilt la lega che lotta contro questa malattia che ha riunito nell'auditorium della Rosso di San Secondo a Capezzano nel comune di Camaiore di studenti dell'istituto comprensivo I ragazzi già da tempo stanno lavorando nelle scuole con progetti che parlano di benessere Il laboratorio delle quattro mosse, non ci dimentichiamo proviene da un progetto regionale delle quattro mosse per il viver bene, il viver sano quindi stamani parliamo di prevenzione con il professor Amoroso e la dottoressa Bambini parliamo di sana alimentazione e lanciamo anche un concorso con uno slogan la cui prevenzione si sarà il 13 maggio uno slogan che sarà lo slogan zonale del viver sano e del mangiare sano Quindi genitori ed educatori devono impegnarsi per contribuire a sviluppare nel bambino una coscienza alimentare autonoma e consapevole che permetta loro di fare scelte nutrizionali corrette promuovendo anche una sana e regolare attività fisica Portare cultura di prevenzione all'interno delle scuole e soprattutto a favore dei ragazzi di questa età seconda e terza media che sono proprio i nostri soggetti migliori perché sono quelli per la cui età è necessario chiarire e spiegare bene come con una corretta alimentazione si può evitare un domani di diventare da una parte obesi soffrire di malattie cardiovascolari e non ultimo anche sviluppare tumori A Via Reggio è lite a distanza fra l'assessore sociale Gabriele Tomei e il sindacato Unione Inquilini Brigata Sociale Antisfratto che nei giorni scorsi aveva chiesto un primo incontro e confronto con l'assessore che oggi però ha risposto dopo le vostre reazioni della scorsa settimana non intendo più ricevere la delegazione secondo Unione Inquilini è un gesto gravissimo una totale chiusura verso il sindacato l'assessore si scusi non solo con noi ma con i cittadini in profondo disagio che noi rappresentiamo è il commento dell'Unione Inquilini Brigata Sociale Antisfratto Ancora a Via Reggio ma per ben altro tema infatti la città ospiterà anche quest'anno il campionato italiano Barman una sfida al miglior cocktail d'Italia vediamo Sarà ancora a Via Reggio il 10 e 11 aprile ad ospitare il campionato italiano Barman riservato agli allievi meritevoli della scuola professionale alberghiera italiana Location d'eccezione sarà il Gran Teatro Puccini a Torre del Lago il concorso arrivato alla sua 17esima edizione vuole valorizzare e motivare l'eccellenza alunno rendendolo protagonista in una performance professionale una gara insomma tra shaker e mixer con le ultime novità nel settore food and drinks iniziano il lunedì mattina con le fasi eliminatorie dove i concorrenti si combattono a suon di shaker ecco a rumor di shaker ci sono varie gare all'interno sia di flair che di caffetteria oltre che di cocktail classiche internazionali e poi alla fine della giornata avremo i semifinalisti che andranno il martedì con la semifinale e la finale il tutto nell'interno di questi due giorni ci sono anche dei percorsi formativi dove si parlerà di bere consapevole l'evento organizzato dalla FIB porterà centinaia di giovani concorrenti da tutta Italia negli hotel di Viareggio in un periodo infrasettimanale i ragazzi dell'alberghiero saranno protagonisti ovviamente partecipando alla competizione quindi avremo la nostra squadra che parteciperà alla competizione di barman e però noi parteciperemo perché organizzeremo la ristorazione una dedica speciale anche quest'anno andrà a Viareggio dopo il cocktail Re Giorgio dello scorso anno dedicato al sindaco Giorgio del Ghingaro quest'anno l'omaggio sarà Giacomo Puccini è un'opportunità per Viareggio, per il turismo ma soprattutto la scoperta di talenti di nuove professionalità e il coinvolgimento dei giovani sul bere consapevole questi sono gli obiettivi che anche l'amministrazione offre Con le immagini ci spostiamo in Alta Versilia nella paesino di Terrinca nello Stazemese dove si è svolto nell'ultimo fine settimana un concerto nella chiesa parrocchiale con una bella cornice di pubblico vediamo da Bach a Vivaldi da Charpentier a Zipoli la grande musica è stata la vera protagonista domenica scorsa Terrinca frazione di Stazema sulle Alpi Apuane l'Eschemad Trio è il gruppo che ha dato vita all'evento organizzato da Musicar Terrinca nel tardo pomeriggio presto la chiesa dei Santi Clementi e Colombano nel borgo Stazemese ad esibirsi è stata la professoressa Elena Ceragioli all'organo alla tromba il professor Alessandro Vanni insieme a Federico Trufelli prima esibizione in pubblico per il trio l'evento a ingresso gratuito con il patrocinio del comune di Stazema della parrocchia e dell'associazione rimbocchiamoci le maniche ha visto un'ottima partecipazione di pubblico presenta anche il sindaco Maurizio Verona una giornata di musica e svago con un occhio però anche alla beneficenza per Terrinca le offerte raccolte saranno infatti devolute per la sistemazione delle finestre parrocchiali la chiesa dei Santi Clementi e Colombano è stata riaperta soltanto nel novembre scorso dopo il restauro storico con l'inaugurazione dell'organo Agati Tronci ci fermiamo ma solo per pochissimi istanti tra poco di nuovo insieme con la pagina sportiva eccoci di nuovo con la pagina sportiva questa sera in primo piano c'è il beach soccer con il viareggio che sarà impegnato anche quest'anno nella competizione europea la Euro Winners Cup vinta lo scorso anno sentiamo dunque quali saranno gli impegni dei bianconeri gli avversari da regolare una parte di essi almeno per difendere il titolo continentale non sono più avvolti nel mistero il viareggio se la vedrà con i belgi dell'Else Arashan Funtan Pervers i moldavi del Dioker Tornado Cisanau e la vincente dei preliminari numero due nella fase al gironi della Euro Winners Cup la Champions League di beach soccer che vede l'edizione di apertura a San Benedetto del Tronto le successive tre a Catania e poi in Portogallo a Nazare dal 29 maggio al 4 giugno in base all'esito del sorteggio che si è svolto in Portogallo i bianconeri di Stefano Santini sono stati inseriti in un gruppo il beach in linea di massima è probabilmente più abbordabile di quello dell'anno scorso comunque ci vuole massima concentrazione da parte dei viareggini per questo importante appuntamento della Euro Winners Cup aperta ad un numero maggiore di club 37 in tutto con 8 gironi da 4 ed 1 da 5 il calendario con gli orari delle partite verrà definito nelle prossime settimane Veniamo all'Hockey il Hockey su pista il Comitato Mondiale della Federazione ha scelto l'arbitro viareggino Luca Molli rappresentanza dell'Italia per dirigere la Coppa delle Nazioni a Montreux in Svizzera e adesso invece nel servizio sentiamo le parole di Alessandro Bertolucci in casa bianconera la situazione del centro e poi uno sguardo anche ai prossimi appuntamenti allenatore del centro giovani calciatori Alessandro Bertolucci con questa sosta del campionato in occasione del torneo di Montreux fa l'analisi della partita di Monza e in più anche per quanto riguarda questo raduno con la nazionale sperando come dice lui al rientro che i giocatori che sono con gli azzurri non abbiano problemi fisici 30 secondi prima un minuto prima c'era stato un fallo molto peggio sul Montice, sulla Balaustria agganciato sarebbe stato punizione di prima e superiorità numerica per noi fallo normale dopo 30 secondi questo giocatore del Monza va giù contrasta casca punizione di prima e non solo punizione di prima espulsione è chiaro che poi dopo dopo 2-3 inferiorità numeriche diventa complicato anche a livello mentale di gamba sopportarle l'abbiamo già sopportate altri e l'ultima ci abbiamo preso gol però onestamente alla squadra hanno poco delle criminali hanno corso sono sacrificati e meritavamo ampiamente la vittoria quelli che restano a casa si riposano un pochino per rigenerare un po' la testa e il corpo e tre vanno in nazionale sperando che rientrano integri e che anche loro magari in un modo o nell'altro riescono un po' a rigenerarsi il calcio adesso terza categoria nel recupero del girone di massa è finita 0-0 tra Montagna Seravizzina e Podenzana ci fermiamo per pochi istanti tra poco di nuovo insieme terza parte del TG Versilia ben ritrovati terza parte del TG Versilia con un aggiornamento di cronaca uno schianto fra un motociclo e un auto nella tarda mattinata al quartiere Migliarina per causa ancora di un corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Viareggio una Peugeot e una moto si sono scontrati in via Ciabattini ad avere la peggio è stato il conducente della moto che ha fatto un volo di diversi metri l'uomo è stato portato in condizioni serie al pronto soccorso del Versilia ad un'ambulanza della Croce Rossa sul posto anche i vigili urbani di Viareggio per i rilievi del caso non ci sono altri aggiornamenti per le altre notizie vi ricordo il nostro sito web reteversilianews.com dove potete vedere le notizie principali della giornata e altri aggiornamenti vi segnalo anche questa notizia di sport il terzo posto per il solista Brenno Gianardi solo 8 anni siamo alla manifestazione Ponte d'Eranza concorso composto da Alfonso Caetano Stefania Sansavini e Riberto Verardi che hanno visto una buona qualificazione per il bambino versiliese i programmi di stasera su Rete Versilia alle 21 torna l'appuntamento con Botta e Risposta in diretta con un dibattito aperto sul congresso del Partito Democratico in corso fino alle primarie del 30 di aprile ci saranno i responsabili delle tre mozioni in Versilia il segretario federale Giuseppe Dati a seguire alle 22 invece torna l'appuntamento consueto del giovedì con i video d'autore di Paolo Barberi oggi la rubrica è dedicata intanto a questa iniziativa nel terreno comunale di Via Leopardi a Fiumetto a Marina di Pietrasanto dove è nato una sorta di orto solidale che è stato presentato inaugurato proprio nei giorni scorsi zona che era stata colpita dal fortunale del 5 marzo 2015 vedete le operazioni di piantumazione sentiremo le voci dei protagonisti e poi uno sguardo anche alle attività dell'associazione lirica La Fenice presso Villa Claudia a Forte Rimarmi alle 22 dunque i video d'autore di Paolo Barberi in replica come sempre nei prossimi giorni per chiudere gli auguri questa sera auguri di buon compleanno a Daniele Chicca di Stiava per i suoi 31 anni auguri da parte dei genitori della sorella del cognato e del nipote compie oggi 43 anni Erika Chicca tanti auguri da parte dei genitori e delle sorelle oltre che da parte degli amici e poi auguri speciali a Erika Dallemura che oggi compie il compleanno auguri da parte di parenti e amici e dalle maestre della scuola di Capezzano Pianore e infine poi facciamo gli auguri anche a Piero Pucci tifoso del Viareggio Calcio e del CGC e a Ian Vecoli esponente di Rifondazione Comunista che festeggia gli anni è davvero tutto grazie dell'attenzione buona serata grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille Autore dei sovrapposti